Il sogno di Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'Europa, è ancora possibile. Un'Europa libera e unita può convivere, dice la Commissione europea, con l'immigrazione di quanti sono alla ricerca di opportunità e non di problemi. Una tesi sostenuta anche da studiosi, esperti di immigrazione e rappresentanti di associazioni nel corso del workshop deliberativo organizzato dalla rappresentanza italiana della Commissione europea durante il percorso Conoscere per deliberare. La popolazione europea invecchia e l'immigrazione potrebbe fungere da volano di ripresa, sostengono i relatori del meeting, solo se gli stessi immigrati saranno considerati cittadini a tutti gli effetti, a partire dalla concessione di alcuni diritti fondamentali, primo fra tutti il passaggio nella concessione della cittadinanza dallo ius sanguinis allo ius soli. Non possiamo continuare ad avere delle persone che risiedono da noi e che lavorano in questo paese o in un altro paese dell'Unione Europea per 20-30 anni i loro figli che nascono qui e che vanno a scuola con i figli dei locali, tra virgolette, e sono stranieri. Tra le proposte avanzate nel corso dell'incontro, quella di avviare un programma Erasmus per il Mediterraneo, finalizzato alla creazione di una nuova umanità euro-mediterranea.